La sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale della regione Puglia e l'associazione Nomeni per Antonio Montinaro dà novità alla iniziativa sulla scorta degli uomini coraggiosi. Quarto Savona 15 è il nome in codice della squadra a cui era assegnata la tutela di Giovanni Falcone. Il salentino Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani persero la vita assieme a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il 23 maggio 1992 alle 17.58 nell'attentato messo in atto da Cosa Nostra Capaci. Matilde e Tina Montinaro, rispettivamente sorella e moglie di Antonio, hanno espresso il desiderio che la macchina su cui lavoravano Antonio, Rocco e Vito potesse attraversare la regione in cui Antonio e Rocco sono nati e cresciuti. La Puglia, ricorda Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, dichiara il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, facendo tesoro della lezione di Carmela, madre di Antonio, che voleva onorarne la memoria come agente della scorta e come uomini attraverso i loro nomi, le loro storie, i loro valori, i servitori dello Stato che hanno dato tutto per difendere la democrazia. La Quarto Savona 15 ha toccato nella giornata di ieri la città di Foggia e proseguirà per Andria, Bari, Trigiano, città natale di Rocco Di Cillo, Mottola, Taranto, Cisternino, Brindisi e Calimera, città natale di Antonio Montinaro. Questo oggetto in forme, che è un po' coperto qui, ecco si vede meglio, questo oggetto in forme, addirittura con la carrozzeria devastata, bruciata, direlta, ci fa ricordare che non si tratta di un film o di una fiction, ma qui dentro c'erano tre giovani poliziotti, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo.